Psicofarmaci, internamento, trattamento sanitario obbligatorio, sono tutte attività, sono tutte azioni che rischiano di essere coercitive e rischiano di andare contro i diritti della persona. Questa sera ne parliamo con Alberto Brugnettini del Comitato dei Cittadini per i diritti umani. Buonasera. Buonasera. C'è una legge sul tavolo del governo, una proposta di legge, la legge Ciccioli, che secondo il Comitato sarebbe peggiorativa della legge 190, la legge Basaglia. Di cosa si tratta? Si tratta di una legge che prevede la riapertura dei manicomi e l'estensione del trattamento sanitario obbligatorio fino a sei mesi rinnovabili indefinitamente. Questa legge non è solo peggiorativa della legge Basaglia, è addirittura peggiorativa rispetto alla legge fascista che era stata a sua volta cancellata dalla legge Basaglia, quindi torniamo indietro davvero di decenni. Quindi si arriverebbe secondo voi ad una coercizione anche legata alle perizie psichiatriche che avrebbero un valore assoluto rispetto a delle prove oggettive che in questo caso non sono apportabili, si parla ovviamente di malattie mentali. Esattamente così, siccome non esiste nessun test scientifico che possa dimostrare l'esistenza di una malattia mentale, siamo completamente nel regno dell'opinabile in cui contano solamente le opinioni di una autorità, quindi se qualcuno è abbastanza autoritario e può scrivere, autoritario nel senso che gode di autorità, scrive una perizia dicendo che la persona a pincopallino è malato e necessita di cure ma non è consapevole della sua malattia e quindi queste cure debbano essere obbligatorie, la persona si ritrova rinchiuso senza nemmeno processo, senza diritto a un avvocato e noi sappiamo per esperienza che l'abuso in questi casi non è l'eccezione ma la regola. Se quando si dà a una persona la possibilità di a suo piacimento internare qualcun altro a tempo indefinito è garantito al limone che avverrà l'abuso e infatti noi sappiamo che la maggior parte dei casi di trattamento sanitario obbligatorio non hanno a che fare con la cura di malattie e non potrebbero perché non si tratta di nessuna malattia, ma hanno invece a che fare con funzioni di polizia o più tipicamente politiche col fatto di sbarazzarsi di qualcuno che è fastidioso per i vicini, per i familiari, per gli eredi di un patrimonio. Una sorta di caccia alle streghe. Davvero, davvero una sorta di caccia alle streghe e in effetti questo mi ricorda come qualcuno aveva fatto un parallelo tra la psichiatria moderna e gli inquisitori, sono caratterizzati dal stesso atteggiamento presuntuoso e autoritario di dire io so cosa è bene per te, anche se tu non lo sai, io lo so e quindi lo faccio e lo faccio per il tuo bene, quindi il famoso atto di fede, la persona veniva bruciata sul rogo ma era per il suo bene, allo stesso maniera oggi le persone possono essere rinchiuse in una cella, possono essere legate a un letto di contenzione, gli possono indossare una camicia di forza, gli possono essere somministrati psicofarmaci, gli possono essere fatti elettroshock contro la loro volontà ma per il loro bene e questo è l'abuso dei diritti umani che noi vogliamo denunciare. E c'è una petizione che è possibile firmare online sul vostro sito? Esattamente, sul nostro sito che è www.ccdu.org c'è il link a una petizione online che si può firmare contro questa proposta di legge, quindi contro la riapertura dei manicomi e contro il prolungamento del trattamento sanitario obbligatorio. Ci sono delle soluzioni positive, delle alternative? Guardi, il nostro Presidente ha recentemente pubblicato un libro, l'inganno psichiatrico, in cui vengono descritti molte delle ispezioni che loro hanno fatto nei manicomi e tutti gli orrori che ci hanno trovati, ma vengono anche descritte diverse soluzioni alternative, come per esempio era il caso del cosiddetto manicomio autogestito di Imola, in realtà era gestito dal Dottor Antonucci, guarda caso un medico e non uno psichiatra, in cui gli internati erano liberi di entrare e uscire quando volevano, avevano le chiavi della loro camera e gli infermieri non l'avevano e stavano meglio, davano segni di grande miglioramento proprio perché gli veniva restituita il rispetto di se stessi, la loro responsabilità, la loro autostima e questo di per sé è sufficiente a far star meglio una persona, quando viceversa le cure autoritarie e coercitive hanno l'effetto di annullare la persona, portarla quasi a una morte interiore. Che ruolo hanno in tutto questo le case farmaceutiche? Le case farmaceutiche ci sguazzano in questo perché naturalmente la medicalizzazione è spinta al punto tale che oggigiorno vengono inventate delle malattie mentali come solo campagne di marketing per la promozione di farmaci, noi abbiamo pubblicato un documentario che si intitola marketing della pazzia, che anche questo è disponibile sul nostro sito, che documenta molto bene come vengono create… Da cui abbiamo visto le immagini scorrere poco anzi… Sì esattamente, in cui si documenta proprio come le malattie mentali vengono create da ditte di marketing, viene instillata l'idea che esistono, vengono create associazioni che ne promuovono l'esistenza, fino a che miracolo esce fuori la pillola miracolosa che cura questa malattia che in realtà non esisteva. Grazie